Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi cosa troveremo nella casellina numero 6 del calendario dell'Avento di Essence Stiamo aprendo insieme tutte le caselline Siamo già arrivate alla casellina numero 6, sono 24 in totale La casellina di oggi si trova comunque qua Anche quella di oggi è comunque abbastanza piccolina e stretta Vediamo cosa c'è all'interno e cosa dice la frase di oggi La frase di oggi dice A girl should wear two things, lipstick and extreme crazy good mascara E c'è il mascara, il mascara che è ambito da tutte che è questo qui Io preferisco comunque quello nel packaging nero rispetto a questo E comunque è la Love Stream Crazy Volume Mascara All'interno ci sono 12 mesi di prodotto e a 6 mesi di PAO Comunque questo è in full size, non è in mini size Di questo sono contenta perché di solito in questi calendari c'è sempre quasi sempre delle mini size Lo scovolino è questo, quindi è molto molto piccolo Però secondo me è utile anche per le ciglia inferiori Non lo so, anche l'anno scorso avevo trovato uno di questi Però avevo trovato quello classico E comunque sono molto carini perché hanno anche tutti questi inserti così che ricordano il Natale Qui c'è addirittura un pacchetto disegnato Quindi sono comunque quasi delle decisioni limitate Perché hanno qualcosa di diverso rispetto a quello che vedete acquistandoli in edizione permanente Quindi il packaging è leggermente diverso Fatemi sapere se voi state aprendo le caselline di qualche calendario dell'Avento Se vi state trovando bene Se volete consigliarmi qualche calendario che magari state trovando in giro O c'è ancora in giro E di cui all'interno ci sono prodotti interessanti Se è piaciuto il video mettete in piace E ci vediamo domani per la prossima casellina Ciao!